Sarà Torino ad ospitare l'Eurovision Song Contest. Pesaro ci ha sperato, ma cede l'onore delle armi alla città piemontese, che è stata ufficialmente premiata oggi dal comitato organizzatore della massima kermesca nora europea. Torino, preferita a Pesaro, ma anche alle altre finaliste Rimini, Bologna e Milano. Città di un'Italia alla quale spettava l'organizzazione del festival, come previsto dalla vittoria dei connazionali Maneskin, triunfatori a Rotterdam lo scorso mese di maggio. La spuntata a Torino in mezzo ad altri poli urbani che possono fregiarsi del titolo di città della musica Unesco. Pesaro ci ha sperato, all'indomani della vittoria dei Maneskin si era fatta avanti assieme ad altre 17 città italiane, ha resistito la prima scrematura rientrando nella top 10, fino all'approdo nelle cinque candidate finali annunciate il 24 agosto da European Broadcasting Union e dalla RAI che ha ufficializzato la decisione definitiva questa mattina. Pesaro si è fatto onore con i suoi requisiti adeguati di accoglienza alberghiera, con la sua conclamata tradizione musicale internazionale del ROF e con l'appeal della Vitrifrigo Arena. Quello di un'arena da almeno 8.000 posti, abbinati ad una adeguata disponibilità di camere d'albergo e un aeroporto internazionale non distante più di un'ora e mezzo di macchina, erano i requisiti centrali. Ha vinto Torino, che può godere del Pala Olimpico, che è l'arena più nuova d'Italia. L'ha appresa con spirito sportivo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che attraverso i suoi canali social si è pubblicamente congratulato con Torino, che rappresenterà l'Italia sotto i riflettori europei. A Pesaro resta l'orgoglio, non da poco, di essere stata competitiva fino alla fine.